Il momento è ora. Non ci sarà un'altra occasione, non a breve, e ti consiglio caldamente di esserci in almeno due modi. O fisicamente o con la testa. E ora ti spiego perché. Lo so che Melbourne è letteralmente dall'altra parte del mondo, però considera questo. La terapia seduta singola sta continuando ad esplodere. Continuano ad uscire libri, continuano ad esserci eventi, esserci congressi, e soprattutto l'esplosione è ancora in corso. Solo negli ultimi 12 mesi sono usciti 5 libri sulla terapia seduta singola, e uno è il nostro, il primo libro italiano sulla TSS. Perché però c'è questo grande parlare di terapia seduta singola? Ecco, qui c'è una cosa curiosa, perché la terapia seduta singola è roba vecchia, vecchissima, se prendiamo soltanto il momento in cui è stata formalizzata almeno 30 anni. Allora perché c'è ancora tutto questo parlare di TSS ora? Uno dei motivi è che la terapia seduta singola permette di dare delle risposte rapide a problemi anche complessi, e Dio solo sa quanto i sistemi sanitari di tutto il mondo abbiano bisogno adesso di qualcosa di simile. Però non è solo questo. C'è anche una maggiore consapevolezza da parte delle persone rispetto a che cos'è la psicoterapia, la consulenza psicologica, a come funzionano, a che cosa vogliono, e la TSS riesce a rispondere bene a questo. Quindi, che fare? Ecco, un'occasione si presenterà a breve. Il 24 e 25 novembre a Melbourne si terrà il terzo simposio internazionale sulla terapia seduta singola. E devi tenere presente due cose. La prima è che è il terzo simposio, e quindi continua a registrarsi un crescente interesse verso la terapia seduta singola. E la seconda è che il secondo fu fatto nel 2015, quindi quattro anni prima. Io me lo persi per un soffio, perché iniziai il mio carteggio con Michael Hoyt proprio quando lui era tornato da pochissimo tempo da quel simposio. E quindi questo che vuol dire che magari il quarto simposio sarà tra tre, quattro anni. C'è comunque un problema. Per noi italiani Melbourne, cioè l'Australia, è proprio dall'altra parte del mondo. Non ho un mappamondo, però fidati, è dall'altra parte del mondo. Io naturalmente ci andrò, sia perché ne parlo ormai da tanto tempo, mi interessa, c'ho scritto il libro e la portata qui in Italia, sia perché sono stato invitato ufficialmente da Jeff Young, il direttore del Buevery Center, come unico rappresentante italiano dell'evento. Però c'è qualcosa che puoi fare anche tu. Puoi fare in modo di esserci con la testa. Considera questo. In Italia ci siamo noi con l'Italian Center for Single Session Therapy e ci sono sempre più terapeuti formati da noi in questo approccio. In Inghilterra c'è Windy Dryden, che è uno dei primi cognitivo-comportamentali inglesi che si sta interessando molto all'argomento, non sia che questi libri cui, solo questi, sono suoi. Cinque ha scritto, tanto lui con la terapia sulla singola. Windy, non c'è niente da fare. E poi in Svezia ci sta Martin Soderquist con la sua terapia sulla singola con le coppie e qualche mese fa, lo scorso settembre, sono stato all'European Brief Therapy Association Conference a parlare di terapia sulla singola e sta crescendo l'interesse in tutta Europa. Che vuol dire questo? Vuol dire che in Europa e prima ancora in Italia l'interesse cresce e quindi la nostra penisola sarà in prima linea sia, ti ripeto, per il lavoro che stiamo facendo noi con l'Italian Center sia per quello che poi i terapeuti formati con noi stanno facendo indipendentemente nel bel paese. Pensa che solo quest'anno stiamo facendo tre formazioni in delle ASL italiane che vuol dire che anche la sanità pubblica sta iniziando a interessarsi all'argomento. Ma anche dal punto di vista del privato le cose vanno avanti. Quindi continuiamo a fare workshop, l'1 e 2 giugno a Milano ci sarà il prossimo e ormai stiamo quasi per raggiungere i 200 terapeuti formati in terapia sulla singola in Italia. Quindi cosa puoi fare? Se hai modo vieni in Australia, sarà un bel viaggio però ci puoi agganciare magari una mini vacanzina. Io forse mi ero andato qualche giorno in Nuova Zelanda con Michael e Robert Rosenbaum e sarà un bel modo, una bella occasione per conoscere un po' di gente e connetterti con un po' di persone. E se non hai modo? Se non hai modo stacci con la testa. The time is now. Il momento è ora. Non lasciartelo scappare. Potresti veramente avere un'occasione singola.